Siamo tornati da Venezia, abbiamo mangiato e adesso stiamo andando in missione a girare La cosa bella di sto paese è che c'è pochissima gente e quindi pochissima gente che rompe le palle Io poi d'altronde vengo qua praticamente da quando sono nata tutta l'estate Un pochettino lo conosco Ci mettiamo dopo che ho girato Raga non è Rimini, ve lo dico subito Non è Rimini E la sera è così Raga purtroppo mi si è spento l'orologio quando mi sono fermato per mangiare il gelato E quindi i chilometri sono di meno, comunque vi metterò anche lo screen del contapassi del mio teletono Così fa comparare un po' le cose Comunque adesso andiamo in un altro posto a vedere qualcosa Comunque adesso andiamo in un altro posto a vedere qualcosa Comunque adesso andiamo in un altro posto a vedere qualcosa Ho appena finito, finito Mi fermo 10 minuti Perché sono un po' le gambe, un po' che chiedono pietà Insomma, mi sono venuta a prendermi un caffettino Adesso vi faccio vedere un po' come la piscina Con qualche clip che ha registrato il mio amoroso Raga, pomeriggio anche questo ho trascorso la piscina, però sono un'oretta più o meno E ho fatto il bagno anche il mio amore Allora raga, siamo tornati a casa adesso Aspetta Siamo andati al mercatino C'era l'albero che c'era il mercatino Quattro bancarelle Però, però, però È arrivato il regalo dei nove mesi Oltre alla cena che aveva pagato lui questo Cambio dell'anello Ed è molto molto più bello E un'altra cosa Un po' siamo andati a vedere cosa facevano qua in campeggio Carocche per bambini Allora, siccome prima abbiamo visto la partita dell'Inter Dopo che siamo andati al mercatino Abbiamo deciso di vedere anche Atalanta-Lazio Che sta vincendo la Lazio 2-0 Io spero che Atalanta ne faccia 3 E vinca 3-2, forza Atalanta E... Niente, ci brecchiamo domani Che domani comincia la rumba dei grandi giri Buongiorno, buongiorno È giovedì E adesso abbiamo delle commissioni da fare E devo portare a sistemare una cosa E adesso, adesso, ho andato a mettere Il biglietto del parchimetro Il berbachimetro Dentro la macchina Ok Prima commissione fatta Già è fatta, sì In teoria sabato proprio si completa del tutto Però, raga, sono soldi che partono Non c'è niente da fare Adesso sta guidando lui perché deve andare in un posto E deve esserci per le 11 e mezza Sono le 11 e 10 Così non si sbaglia Sa dov'è E fa tutto lui Insomma Poi dopo andiamo a mangiare dei futuri suoceri Ragazzi, guardate che splendore che è Vi faccio vedere Guardate che bello Qui con delle barche lì Ci sono i classici negozietti Allora, raga, siamo andati in piscina pomeriggio Ma non ho messo la clip perché non era vendita bene Adesso siamo venuti a prendersi un caffè E a vedere cosa fanno qua Perché ci hanno aspettato una mini festa Tutti con la mascherina comunque O quasi tutti E chi non ce l'ha alla distanza Bravi, bravi, bravi Ci vediamo dopo Raga, stiamo partendo per andare a Rini Però faccio un vlog a parte Ah, raga Giro, serale Però non andiamo in caccia del gelatino Abbiamo mangiato Vabbè, diciamo che io ho messo a cuocere Due buste di risotto Uno allo zafferano e porcini E l'altro alla minanese Quindi ho fatto un miscuglio Però era buono E quindi adesso ne affaccio una passeggiatina Non ho l'orologio dietro perché è scarico Quindi penso che alla fine di questa giornata Vi metto il numero dei passi che ho fatto Però solo dal contapassi del telefono Perché alla fine l'ho sempre avuto con me oggi Quindi penso che i passi siano giusti, no? Ci becchiamo dopo Eccoci qua, raga Adesso mi sono fatto un caffè Sono le 8-10 Ho già cenato Ovviamente le 8-10 di sera Non ho registrato molto Gli ultimi due giorni Perché ero ancora un po' stanca così Oggi è lunedì Sono tornata a casa dal mare appunto E sono un po' abbrangiata Detto questo Io vi saluto E noi ci vediamo alla prossima Ciao 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 Ciao